allora è l'unico modo per alzare il culo amici incredibili è tutto quello che ho fatto sopra e l'ho messo sopra guardate come lo ha fatto farlo salire fino all'altezza della faccia e lui dice sì, c'è un gran capo nel senso che non ti sa amici, allora, sono anche una persona seria a un certo punto vabbè ragazzi ma che è un video di qua allora venga Cristiana, venga la nostra sorella vieni allora amici se volete lavorare qui dove c'è il problema di noi donne amiche, noi che ci capiamo allora, dove ti forma il grasso amiche amiche dove si strategica il grasso guardate il gluteo della nostra modella cristiana di marmo di marmo di Carrara ma stessi cristiana non fare la gelone